Per 48 ore i soccorritori li hanno cercati per mare e per terra con un considerevole dispiegamento di uomini e mezzi, ma senza approdare a nessun risultato. Inoltre nessuno ha mai presentato denunce di scomparsa e così sono state interrotte nella giornata di ieri le ricerche di un adulto e di un bambino scattate dopo la segnalazione di una presunta scomparsa avvenuta sul lungomare Cristoforo Colombo di Polignano a mare. Le operazioni erano scattate nella tarda mattinata di venerdì 24 febbraio, quando un passante aveva raccontato di aver visto un uomo e un bambino di circa 47 anni su una terrazza che affaccia su una scogliera a strapiombo sul mare, nei pressi di largo ardito. Il testimone aveva anche raccontato alle forze dell'ordine che il bambino era sprovvisto di scarpe e di giubbino, indomenti che erano poi stati effettivamente ritrovati sul posto assieme ad un altro paio di scarpe sportive da adulto. Le attività hanno visto impegnate le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che hanno perlustrato l'intero tratto di costa, mentre in mare i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato fondali, grotte e cavità carsiche. I carabinieri hanno invece condotto le ricerche via terra con l'aiuto di tre elicotteri che per due giorni interi hanno sorvolato la zona ma senza nessun riscontro. A rafforzare l'ipotesi di un falso allarme, la totale assenza di denunce di scomparsa che ha fatto venire meno la certezza che ci fossero effettivamente delle persone da cercare.